Il suo intervento è sempre pertinente alla tematica di oggi e quindi alla risorsa del nutrirsi meglio perché ci sia condivisione del cibo da parte di tutti ci porta però ad affrontare una tematica che era un po' anche il nocciolo del suo intervento in particolare i problemi dell'obesità come influenzano il nostro ciclo veglia-notte e quindi sveglia e sonno Sicuramente uno degli effetti collaterali dell'obesità è la difficoltà di questi soggetti a avere una corretta ventilazione polmonare durante la notte e questo può indurre una di quelle patologie dette apnea notturne che poi hanno delle conseguenze notevoli sia a livello cardiocircolatorio che anche a livello di qualità del sonno perché questi pazienti ovviamente alcuni sono russatori quindi già ci danno problemi sociali con le rispettive compagne e compagne ma anche è un problema di una difficoltà a dormire e di raggiungere un sonno effettivamente riposante Ecco, professore, diciamola tutta, allora per prevenire i problemi che lei ha descritto quando è che bisognerebbe intervenire a livello di corretto regime alimentare? Allora, sicuramente il regime alimentare corretto deve essere sempre ricercato quello che è importante è correggere l'alimentazione in termini calorico quando questo dovesse raggiungere un sovrappeso perché sappiamo che il sovrappeso determina un'alterazione e un accumulo di grassa a livello viscerale che a sua volta comportano una difficoltà di respirazione quindi c'è un po' tutto collegato la parte dell'otorino all'ingogliata è quella di gestire un po' la pervietà delle vie aeree cioè quant'aria riesce a passare, quindi più grasso si deposita intorno a queste tubature detto in modo molto volgare, più difficoltà ci sarà all'aria a passare e più facilmente avremo delle forme di apnee e con gravità crescente ricordiamo sempre che il russamento, che può essere un campanello d'allarme, è molto più frequente di quanto siano le apnee e la differenza è che mentre il russamento è un qualcosa di rumoroso ma di continuo legato agli atti ispiratori l'apnea è proprio la sospensione dell'atto respiratorio stesso che può durare 20-30 secondi ed è quello un parametro che deve essere monitorizzato dal partner per indirizzare il compagno verso una valutazione di questo aspetto benissimo, grazie professore